Saranno tre le liste che concorreranno l'11 giugno 2017 per ottenere la poltrona di sindaco del comune di Licciana Nardi. Tra queste spunta la lista alternativa per Licciana, guidata da un giovane Gabriele Donati. Una lista rivoluzionaria rispetto alle altre, che punta sulla rottura con il passato per guardare a un futuro migliore, fatto di nuove opportunità, ma soprattutto di scelte in controtendenza con le passate amministrazioni. Ad affiancare Donati ci saranno Diego Donati, Ermanno Lucini, Thomas Bassignani, Davide Magnani, Giovanna Nicosia, Benedetta Carlotti, Vanessa Botti, Marco Anzalone e Massimo Pretazzini. Un gruppo di giovani senza precise appartenenze politiche che ha come scopo ultimo di portare a termine degli obiettivi sui quali il confronto è aperto.